Spunta una nuova accusa per uno dei quattro carabinieri indagati nell'inchiesta sulla morte di Riccardo Magherini, il quarantenne deceduto nella notte tra il 2 e il 3 marzo scorsi durante un arresto in San Frediano a Firenze. Dopo la chiusura di indagini e venerdì scorso il PM ha firmato un'integrazione che ravvede, oltre all'omicidio colposo, anche reato di percosse per uno solo dei quattro carabinieri che quella notte intervennero inoltrarno. Fondamentale ai fini della svolta nella vicenda della morte dell'ex calciatore, uno dei videogirati quella stessa notte dalle finestre che si affacciavano su Borgo San Frediano, dove era in corso l'arresto di Magherini. Nel video un carabiniere sferra un calcio all'uomo durante l'intervento. Oltre ai quattro carabinieri l'avviso di chiusura indagini coinvolge anche tre sanitari del 118, per loro l'accusa resta di omicidio colposo. Andrea Magherini, fratello di Riccardo, scrive su Facebook Riccardo è morto umiliato, picchiato, soffocato, è stata una tortura, sarà un processo durissimo. I carabinieri sono stati indagati solo dopo la nostra denuncia. Riccardo è stato preso a calci mentre si trovava steso a terra, già ammanettato in posizione prona, chiedendo disperatamente aiuto. Lo documentano i videogirati, i testimoni presenti, le lesioni riportate. Lo documenta lo stesso PM, che lo ha scritto in una mail inviata al nostro difensore.